Buonasera a tutti, io mi chiamo Silvia Bencevelli e faccio la giornalista scientifica. Ho deciso di parlarvi della non scienza. Può sembrare strano come argomento, insomma, parlare di scienza definendo quello che non lo è, ma ho pensato che per chi fa la maturità quest'anno, proprio nel 2020, possa essere interessante, vedere un po' le cose che ci stanno succedendo, la ragione per cui, per esempio, siamo tutti quanti in casa in questo momento, utilizzando diversi strumenti, per esempio alcune cose che si studiano a scuola, come la filosofia, ma non soltanto, anche cose che avvengono nel mondo delle informazioni, come quelle che oggi chiamiamo fake news, che in realtà sono sempre esistite, se sono le vecchie e care bufale. E quindi che possa essere utile imparare a ragionare sulla differenza tra scienza e non scienza e sulla difficoltà a definire questa differenza, perché questo è un po' un tema chiave della nostra convivenza civile in questo momento, insomma della nostra collettività. E voglio anche dimostrare loro che le cose che si studiano a scuola possono essere utili nella lettura delle cose dell'attualità. Perché ve ne parla una giornalista? Perché proprio io a raccontarvi queste cose? Beh, io sono giornalista, sì, sono laureata però in medicina e oggi molte delle fake news che circolano in rete, molte di quelle di cui si sente parlare più spesso, che sono anche probabilmente tra le più gravi, riguardano proprio la nostra salute. Vi dico subito che le bufale in realtà sono sempre esistite e non sono assolutamente una novità di questi anni, non sono una novità degli anni in cui esiste la rete. E faccio anche una piccola parentesi, insomma apro anche una piccola parentesi per dire che ogni tanto si distingue l'intenzionalità di chi le ha messe in giro, no? Quindi la bufala costruita d'arte perché qualcuno ci vuole guadagnare oppure vuole dirottare i nostri voti su una certa forza politica, eccetera, e magari il semplice malinteso. Questa distinzione può essere utile per trovare chi è il truffatore, ma forse a noi può essere ancora più utile cercare di capire perché spesso in tanti, anzi quasi tutti, ci caschiamo, perché siamo così suscettibili, così vulnerabili alla bufala, alla notizia falsa. E questo perché ci dà il modo di farci gli anticorpi, cioè di diventare bravi a riconoscere le situazioni scivolose e magari a evitarle, e quindi a essere autonomi nel riconoscere che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, che cosa è vero, che cosa no. Si tende a credere, e questa è una cosa importante da dire, che le bufale sono appannaggio delle persone stupide o ignoranti. Questo non è del tutto vero, anzi non è vero per niente. È vero che la cultura è uno strumento per difendersi, ma se fosse l'unico strumento e se fosse assolutamente sempre necessaria e sufficiente, basterebbe studiare. Purtroppo non è così. Purtroppo tante persone che hanno studiato credono alle bufale lo stesso. Più o meno tutti noi possiamo cadere in un'informazione sbagliata. Perciò quello che vi racconterò in questa brevissima lezione, e proverò a farlo in maniera rapida e efficace, intanto che cos'è la scienza oggi, poi che cos'è la non scienza, e poi perché siamo predisposti a credere alla non scienza forse più che alla scienza in tante circostanze, e che cosa quindi dobbiamo sapere per orientarci. Vi dico subito che uno dei problemi chiave di tutta questa storia sta in uno strumento che tutti quanti possediamo, e che tutti quanti crediamo di saper utilizzare, ma che invece no, invece spesso ci inganna, ed è lui. Ovvero si è il cervello umano. Il cervello umano lo utilizziamo male alle volte, o meglio, lo utilizziamo come è umano utilizzarlo, ma lui di per sé non è una macchina perfettamente razionale, non è una calcolatrice, non è una macchina che non sbaglia mai. Anzi, noi tante volte, molto spesso, ci facciamo guidare dalle emozioni più che dalla razionalità, e non ce ne rendiamo nemmeno conto. La scienza stessa è un oggetto complicato per il nostro cervello, perché la scienza è difficile, si basa su numeri e su calcoli, e non si dovrebbe basare sulle emozioni, e quindi è un oggetto da maneggiare con particolare cautela. Allora, cominciamo da che cos'è la scienza. Ovviamente sono stati scritti qualche migliaia di pagine di libri a riguardo, probabilmente voi avrete studiato la filosofia a scuola, quindi la gnoseologia, le teorie della conoscenza, l'epistemologia, che è la filosofia della scienza in particolare. Io qui ovviamente sarò super approssimativa e vi parlerò dell'oggi. Perché oggi? Perché la scienza che si fa oggi è una scienza tendenzialmente grande, che coinvolge tantissime persone, e che è fatta sulla base degli stessi principi, sì, ma poi con pratiche molto diverse da quelle che si sono utilizzate, per esempio, un secolo fa, o ancora di più due secoli fa, e così via. Allora, che cos'è la scienza? Tipicamente c'è un gruppo di scienziati che fa un'ipotesi su come funziona un fenomeno naturale. È un'ipotesi che appartiene a una teoria, e le teorie poi sapete bene cosa sono, insomma, ma andiamo avanti. Gli scienziati quindi progettano un esperimento e cercano i fondi per farlo. Mi piacerebbe poter dire progettano un esperimento e fanno un esperimento, ma per fare l'esperimento c'è bisogno di soldi. Quindi nel fare l'esperimento si mettono d'accordo tra di loro, cercano i fondi per farlo, ciascuno nel proprio paese, oppure in Europa lo facciamo a livello europeo, e se sono fortunati, se sono bravi, se c'è ragione di pensare che il loro esperimento abbia senso, tipicamente trovano i fondi per farlo. È un nodo cruciale questo del finanziamento della scienza. Dopodiché si fa l'esperimento. Si fa l'esperimento, se l'esperimento riesce, si scrive un articolo di ricerca, che è come una ricetta di cucina, c'è scritto come è stato fatto l'esperimento, e si manda a una rivista scientifica. Se la rivista scientifica valuta, con modi che non vi spiegherò, che la cosa va bene, l'articolo viene pubblicato. Può andare addirittura anche a un congresso l'articolo, e a quel punto, da quel momento, tutti gli scienziati del mondo possono leggere l'articolo, possono sapere che quell'esperimento è stato fatto, e possono, per esempio, ripeterlo. Perché è importante ripeterlo? Anche questo è un nodo cruciale, anche qui ci sono tonnellate di pagine di filosofia dietro, ma questo è, diciamo, un presupposto fondamentale per la scienza. La scienza è fatta da persone che si parlano, si raccontano quel che hanno fatto, e si mettono in condizioni di ripetere le cose. Se l'esperimento funziona qui, in Italia, a casa mia, deve funzionare su qualsiasi altra parte del pianeta, in casa di qualunque altro scienziato. Dopodiché, gli altri scienziati del mondo possono ripetere l'esperimento. Se l'esperimento dà gli stessi risultati, possono fare controesperimenti, per esempio, oppure possono andare a cercare esperimenti che dicano l'esatto contrario. Insomma, si possono fare diverse cose, aderendo a scuole filosofiche diverse, ma se la comunità degli scienziati ritiene che quell'esperimento abbia, diciamo, confermato, dimostrato abbastanza bene quell'ipotesi, quella diventa scienza. Diventa scienza ed è quello che, diciamo, quello che si fa, ed è la ragione per cui noi oggi prendiamo certi farmaci piuttosto che altri, oppure si utilizzano certe tecnologie piuttosto che altre, eccetera. Perché ho precisato oggi? Perché questa è una scienza le cui scelte e le cui scoperte ricadono sulla vita di tutti noi. Io sto utilizzando un computer, voi state utilizzando altri computer, abbiamo fatto delle scelte che riguardano la nostra salute e così via, e lo abbiamo fatto sulla base di una scienza che è presente nelle nostre vite, che quindi, diciamo, dobbiamo condividere, ecco, che dobbiamo discutere anche. Questo, è importante precisarlo, più o meno succede da dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè da quando la scienza non ha fatto soltanto cose buone, ma ha anche costruito, per esempio, bombe atomiche. Bombe atomiche che sono state costruite dagli scienziati, su indicazione della politica, e sulla base di teorie scientifiche, insomma, tutto quello che vi dicevo prima non è necessariamente buono o cattivo a priori, lo è per come viene utilizzato e per questo è anche importante decidere tutti insieme che cos'è una buona scienza, che cosa vogliamo fare con la scienza. La scienza è un'impresa umana, costosa, ma anche molto potente nel bene e nel male. E allora, è anche per questo che girano tanti falsi, è anche per questo appunto che gira anche tanta non scienza, che è quella che vi andrò a spiegare, insomma, diciamo così, che andrò a riassumere tra pochi secondi. E allora, di bufale, chiamiamola così genericamente, ne esistono di diversi tipi. Attenzione che anche qui i diversi tipi non sono rigidamente separati l'uno dall'altro, questa che vi propongo è una classificazione in tre, che è del tutto arbitraria. Per esempio, ecco, il primo tipo di bufala che vi propongo è il malinteso. L'informazione scientifica è troppo difficile, per esempio in questo caso qui, è piena di dettagli, si capisce male. Questo qui è una bufala che è girata recentemente, si diceva che farsi la barba protegge dal coronavirus. Ovviamente non è così. La notizia originaria era chi ha la barba indossa peggio la mascherina, quindi si mette più a rischio. Però queste sono quelle situazioni in cui una notizia viene deteriorata, semplicemente forse non era del tutto comprensibile in partenza. Poi ci sono delle situazioni in cui ci si guadagna, chiaramente. delle situazioni in cui ci si mette il marketing. Possono anche queste non essere condizioni particolarmente gravi, per qualcuno sono viniali, cioè imperdonabili. Sono situazioni tipo questa, no? Andiamo al supermercato e troviamo l'acqua senza glutine. È vero, quell'acqua non è il glutine, però è anche vero che nessun'acqua ha il glutine. E quindi quell'acqua sta sfruttando, cioè questa marca d'acqua sta sfruttando una cattiva notizia, sta dando una cattiva informazione, perché tra l'altro ci fa pensare che le altre acque possano essere piene di glutine e ci fa anche pensare che il glutine possa essere nocivo. In realtà per la maggior parte di noi il glutine è assolutamente innocuo, se non anzi nutriente, per le persone che non hanno celiachia, questo va precisato. Questo meccanismo è un meccanismo molto diffuso, per esempio in ambito alimentare, e ci sono bufale grandi, piccole, prendiamole così. Anche perché poi ci sono quelle veramente gravi, e tra quelle veramente gravi ne ho scelta una che riguarda un virus, un virus molto pericoloso, un virus che può essere letale e che fino a qualche tempo fa era un virus soltanto di altre specie animali, poi ha compiuto il cosiddetto salto di specie ed è diventato anche un virus umano. Un virus che dovremmo in ogni modo combattere e sto parlando del virus del morbillo. Il virus del morbillo è oggetto di una bufala che gira da tempo, secondo la quale il vaccino contro il morbillo causerebbe malattie di spettro autistico, che sono malattie molto serie. Non è così, non è affatto così. Sappiamo molto bene che questa nasce come truffa, eppure sappiamo anche altrettanto bene che ogni anno questa truffa causa più di 100.000 morti. Nel 2019 140.000 morti, tra loro soprattutto bambini. Ci sono 19 milioni di bambini nel mondo che non hanno ricevuto il vaccino contro il morbillo. Molti di loro perché i loro genitori sono spaventati. Dicevo, sappiamo vita e morte e miracoli di questa truffa, che poi è diventata una bufala, perché conosciamo chi l'ha messa in giro. Conosciamo tutta la storia. Se volete fare le vostre ricerche, trovate la storia di questo signore che si chiama Andrew Wakefield, che nel 1998 pubblicò un articolo scientifico appunto con un esperimento, che però era una truffa, era sbagliato. Dicevo, lo conosciamo molto bene, eppure nel 2006, quindi otto anni dopo la pubblicazione di quell'articolo sbagliato, dopo 14 anni, per la prima volta in Gran Bretagna, morì un ragazzo di morbillo. Aveva 13 anni ed è stata la prima vittima di quella bufala. Quindi non sono cose su cui si scherza, possono essere situazioni molto gravi le bufale e possono essere anche difficili a morire. Questo è un documentario che girava pochissimi anni fa, quindi a 20 anni dall'inizio della bufala, più di 10 anni dalla smentita della bufala, eppure insomma continuava a circolare. Vedete che in tutte queste bufale c'è un'informazione scientifica, un'informazione scientifica sbagliata, ma contigua a un'informazione scientifica reale. Addirittura in quella più grave che vi ho proposto, e guardate che ce ne potrebbero essere miliardi, questi sono stati soltanto esempi, addirittura lì a mettere in giro la bufala è stato un medico, ma allora noi di chi ci dobbiamo fidare? Ecco, questo ve lo voglio dire perché ci sono diverse ragioni per cui quelle notizie sbagliate funzionano e per cui in molti casi appunto non sappiamo di chi fidarci, siamo terribilmente confusi, e una di queste ragioni è che la scienza è difficile, appunto non è come la religione, non ci propone delle verità dogmatiche, stabili, e anzi, come vi ho spiegato all'inizio, ci propone delle verità fluide su cui gli scienziati si devono mettere d'accordo, su cui devono fare esperimenti che si possano confrontare l'una con le altre, ma c'è poi il secondo attore, il cervello. Il cervello, appunto, il cervello e la sua capacità di sbagliare. Questa è stata già descritta dai tempi di Aristotele in poi, da un sacco di gente, sono stati dati anche alcuni, premi Nobel per l'economia. Chi di voi si ricorda le fallace descritte appunto in parte, ecco, da Aristotele si ricorda che molto spesso noi ragioniamo male, facciamo ragionamenti, usiamo la logica sbagliata. Per esempio, ecco, un errore che facciamo tutti quanti molto spesso è che andiamo in giro in cerca di conferma delle cose che già crediamo o delle cose che già crediamo di sapere. Un altro errore, per esempio, lo descrive Pangloss, Pangloss che è il tutore di Candido, di Voltaire, noi cerchiamo spiegazioni per le cose, no? Il naso è fatto per portare gli occhiali e alle volte cerchiamo anche colpevoli per i problemi, anche se magari colpevole non c'è. Un altro errore cognitivo che facciamo molto spesso è che a noi piacciono tantissimo le eccezioni, no? Quindi, se una volta una persona mi ha raccontato che è successa quella cosa lì e la sua zia diventa una possibilità che noi cominciamo a considerare normale. Tendiamo a sopravvalutarla. E poi tutti quanti noi ci facciamo influenzare da come vengono presentate le cose. Non è né giusto né sbagliato, è così e basta. Noi spendiamo più soldi in un negozio che ci sembra di una certa classe magari per comprare le stesse cose che non siamo disposti a pagare altrettanto in negozi meno eleganti. E allora, per arrivare più o meno in fondo a questo nostro ragionamento, la scienza è difficile. Non ci dà una verità unica, definitiva, ma vive di discussione, di confronto, vive di prove, di verifiche, magari a un certo punto ci rendiamo conto di aver creduto a una teoria sbagliata e ne costruiamo una nuova. Oppure ne mettiamo una nuova accanto a quella vecchia per spiegare cose nuove che prima non sapevamo. Per di più è fatta ad essere umani. Esseri umani che hanno bisogno di finanziamenti, come dicevo, che devono mettersi d'accordo. Qualcuno tra loro può anche essere un truffatore. Vedi Wakefield, nella maggior parte dei casi gli scienziati sono brava gente, voglio dire, però ci può anche stare. In più la scienza ci serve e questa è la cosa più importante di tutti. Ci dà risposte, non può darcele tutte, ma ce ne dà molte. È dietro a un sacco di cose, dalla spesa che facciamo alla cura delle nostre malattie, ma, appunto, ed era questa la conclusione a cui sono arrivata, il nostro cervello è un cervello tutto sommato limitato, è un cervello umano che fa fatica con il ragionamento o razionale. Insomma, bisogna essere un po' capaci di utilizzarlo. ecco perché gira tanta roba che sembra scienza, ma non è. Ed ecco perché, se non stiamo attenti, contribuiamo anche noi a metterle in giro, anche se non siamo giornalisti, e contribuiamo a creare questa confusione, per cui sembra che l'informazione scientifica, l'informazione medica, un giorno dica una cosa e il giorno dopo dica una cosa diversa, magari contraria, senza criterio. Il criterio ci può essere, magari non siamo noi capaci a capirlo. E allora, e allora per concludere, che cosa si può fare? Beh, intanto utilizzare le cose che si sono imparate a scuola, e non soltanto a scuola, una fra tutte, lo spirito critico. Un po' si può evitare di essere ingenui. Internet è uno strumento meraviglioso, io lo sto usando anche in questo momento, però, e le bufale sono sempre esistite, non c'era bisogno di internet per inventare le bufale, però su internet ciascuno di noi può diffondere a moltissima gente nello stesso momento dei contenuti su cui magari non è così sicuro e di cui non è capace di valutare la veridicità. Però, però voglio lasciarvi un finale positivo, però ci si può lavorare. Ci si può lavorare dialogando con gli altri, cercando di essere un po' umili, esercitando l'apertura mentale, mettendosi in dubbio, evitando di parlare di cose che non si conoscono, perché meno si conoscono le cose, più si tende a cercare di dare dei giudizi affrettati, netti e precisi, insomma, più si è presuntuosi. Altro consiglio, fate attenzione ai numeri, alla statistica, perché con i numeri e con la statistica si possono dire cose che non hanno senso, oppure si possono dire cose che hanno senso, ma che non siamo capaci di leggere e che sono troppo difficili da proporre a noi stessi e agli altri. e poi leggere bene con attenzione, facendo molta attenzione alle fonti delle cose, chi ci sta dicendo cosa, perché e chi ci guadagna. La scienza funziona per paradigmi di maggioranza, ma funziona finché possiamo discuterne e questo è il mio invito a tutti quanti voi.